Ci sono ancora margini in cui gli adulti possono muovere per cercare di recuperare in fronte dell'impegno educativo su cui ora non si sono ancora molto impegnati? Certamente, per fortuna l'uomo, come diceva Nietzsche, è un animale mai definito, ha sempre possibilità di recupero e di modificare le scelte della propria libertà. È necessario che gli adulti prendano una pausa di meditazione, di riflessione, ritornino su loro stessi e devono conquistare innanzitutto una grande libertà, la libertà di non essere più giovani, che permette quella simmetria, quella differenza, quella distanza al cui interno si può accendere un dialogo educativo efficace. E devono rimettere al centro i giovani. Un giovane si muove, inizia a camminare quando legge negli occhi degli adulti una frase molto semplice, tu mi interessi. Dobbiamo passare da una società che ha in mente solo di procurare cose e beni ai giovani a una società che abbia cura dei giovani. Insomma, nella misura in cui gli adulti continuano a voltarsi indietro, a guardare la loro giovinezza diventata irraggiungibile, diventano un po' come la moglie di Lot e delle statue di Sale. Ma potremmo dire dell'estate di butolino. Devono ritornare ad amare l'età adulta. È stato un bene essere giovani e un bene essere oggi appunto adulti. Certo, è una società che spinge in tutta altra direzione però. È una società che assolutamente, basterebbe monitorare un attimo la pubblicità, che continua al ritmo dell'idea che la password della felicità è appunto l'essere sempre giovane, il forever young. E qui penso che entri in campo proprio l'autorevolezza, la passione della comunità dei credenti. Ascoltare il grido di sofferenza che c'è alla latitudine giovani di questo mondo e proprio del mondo della Chiesa. I giovani, è bene che lo sappiamo, hanno bisogno di autorità, hanno bisogno di adulti, hanno bisogno di testimoni. I testimoni appunto che la vita è difficile ma è bella, che la vita è segnata anche da sofferenza, da fatica, ma c'è pure un brivido di eternità che la attraversa.